Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio e sempre con il microfono e la cam accesi. Allora in questi giorni sto facendo un po' di pulizia, diciamo così. Sto aprendo cassetti, svuotando armadi, tra le altre cose come ho detto ieri sera ho anche aperto una porta dell'armadio che era chiusa da un anno circa e mi sono reso conto di una cosa, ossia che non colleziono solo t-shirt, solo magliette, ok? Per chi non lo sapesse colleziono comunque magliette più di 250, gruppi rock, personaggi, attori, attrici, serie tv, insomma, personaggi da film, personaggi storici, insomma. Tra le altre cose mi ricordo anche quando ho iniziato o meglio con che maglietta ho iniziato questa collezione. Con una maglietta di H&M che al tempo faceva ancora magliette decenti secondo me. Tanto l'ho anche ribeccata, ce l'ho ancora, non la metto chiaramente perché è ultra rovinata però. Le prime cose non si scordano mai. maglietta stampa bianco e nero con scritto endless, penso voglia dire senza fine. E comunque mi sono reso conto che non colleziono praticamente solo magliette. Svuotando gli armadi, svuotando tanti armadi, ok? Anche posti impensabili dove mettevo le robe, le accumulavo, colleziono anche jeans, colleziono cappotti, mi sono reso conto, colleziono sciarpe, colleziono cappelli. Pensavo di collezionare solo maglietti, invece sono pieno di tutto. Scontato dire che ho trovato anche cose con le etichette che non ho mai messo. Tra le altre cose, una cosa simpatica, cioè ho trovato chiaramente il 90% delle cose accumulate, non le ho praticamente mai più messe. Ho anche trovato un paio di pantaloni con la zampa d'elefante che avevo preso tipo vent'anni fa, che erano già andate fuori in moda. Già andati fuori in moda questi jeans, però. E magliette con le etichette, magliette praticamente identiche, prese ad anni di distanza quando tornava la moda. Io chiaramente mi ero anche dimenticato di averne una simile. Moltissime cose sono praticamente uguali. Diciamo che ho 20 sfumatori di ciallo, giubini, giubini. Ho veramente di tutto. Insomma potrei essere chiamato accumulatore seriale, ok? Però preferisco dire che a fregarmi è il primo o poi a me. È il primo o poi. In quanto non butto via niente, me lo giustifico così. Prima o poi tornerà di moda. Perché oltre magari a tenere, che ne so, la mia camicia che ho fatto il video con i Renoir nel 2003, un cappotto che ho usato nella copertina del disco di Renoir, cose del genere. Chiaramente non ho più messo però su ricordi. Certi cose, certi jeans, magari certe maglie, non le butto via perché magari torneranno di moda. Prima o poi torneranno di moda. E sto prima o poi, cazzo, ma, a vero sincero, proprio mi ha sempre fregato. Perché finché riguarda un capo d'abbigliamento occupa spazio, ok? Occupa spazio in un armadio. Quando finisce lo spazio in un armadio prendi quelle cose da Ikea che crollano dopo due mesi, però ti danno l'illusione di poter conservare tutto. Infatti sono pieno anche di quelle. Però quando il primo o poi, ok, lo usi per altre questioni, chiaramente là è più difficile la faccenda, ok? È decisamente più difficile perché un cuore hai, una testa hai, ok? Non puoi comprare un altro cuore, non puoi comprare un'altra testa, non puoi andare in prestito, non puoi... E quando finiscono i pensieri che riguardano il primo o poi? Quando finiscono... quando il cuore si riempie di prima o poi, battiti a forma di prima o poi, quando si riempie, cosa fai? Scoppia. Scoppia il cuore, scoppia la testa. E questa è una fregatura, cazzo, è decisamente una fregatura, senza se e senza ma. Sperare che una persona torni, ok? Prima o poi, prima o poi capirà, prima o poi se ne renderà conto. Questi pensieri ti riempiono veramente tutto, ti riempiono le esistenze, ti riempiono la vita, però alla fine esplodi, alla fine il cuore esplode, la testa esplode e non ce la fai più, e non ce la fai più. Decisamente. Magari uno potesse prendere... però da un lato è anche un bene non poter aggiungere teste, non poter aggiungere pezzi di cuore, ok? È un bene perché sennò, per come sono fatto io, andrei in cerca di sistemare questi pensieri, sistemare questi battiti di cuore che vogliono sapere di smettere, pur di continuare a sperare in un primo o poi, ok? Pur di continuare a volere un primo o poi. E invece penso che ci sia un limite a tutto. Decisamente. Buonanotte.